come è stato l'impatto con il club cioè con le strutture del club con il nuovo centro sportivo e anche con i compagni con i nuovi compagni che che tutti i giorni lavorano insieme a te i minn sottotitoli? Well, it's new, everything is new so you have to get used to it but and of course that's also what I wanted when I when I left Ajax to get like a try something new so I know I enjoy the thing that you I also still I'm 33 but I'm still learning about the football so that's nice and also the teammates have been very welcoming and it's it was pretty easy to to get to know everybody and everybody like I said everybody also in the club have molto aiutato e questo aiutato. Il lavoro è più difficile qui o in Amsterdam? Il training qui è più difficile da in Amsterdam. Qui trainano un po' più lungo, ma come l'anno scorso l'Ajax, abbiamo giocato tre game ogni settimana, quindi è anche difficile. Non puoi entrare così difficile quando giochi solo nel weekend, quindi è normale. Ma come ho detto, è una forma diversa di trainare qui e quindi devi riuscire a questo. E questo è anche quello che mi piace, per aumentare il tuo horizonte, per imparare delle nuove cose. E questo è quello che faccio qui, quindi mi piace. La Serie A? È il tuo primo anno in Serie A ed è come te l'aspettavi? È più facile, più difficile, più complicata o meno? Non so se è più difficile o più facile che ho pensato, è quello che ho esperato. E questo è quello che mi piaceva. E questo è quello che mi piaceva. sì, ho sempre visto l'Italian football quando ero piccolo. E ho visto il mio primo Serie A quando ero 5 o 6 in San Siro, con il mio amico, che è italiano. Quindi, c'è qualcosa di bello. Quindi, ho sempre chiesto di giocare l'Italian. e quindi, hai molti grandi team qui. Ogni match è difficile, non hai alcuni team buoni. Quindi, è stato molto divertente. È molto divertente. E soprattutto, ho visto i stadioni, che ho visto su televisioni per molti anni, e molti grandi giocatori. Quindi, mi piace molto. Allora, negli ultimi incontri, la squadra ha fatto un passo avanti, proprio in termini di coesione tra di voi. indipendentemente dai risultati, si vede, come dire, un diverso approccio alla gara, da parte vostra. È vero? Ti ci ritrovi in questa definizione? Sì, è qualcosa che stiamo sentendo. Penso che le ultime settimane abbiamo migliorato. Abbiamo iniziato a ottenere punti. Abbiamo iniziato a ottenere una buona identità. E credo che abbiamo mostrato questa settimana che non abbiamo ottenuto alcuni punti contro, credo, credo, il migliorno è il migliorno in Serie A. Ma abbiamo raggiunto fino alla fine, e credo, se abbiamo ottenuto un punti, credo, 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 che abbiamo messo in la squadra, molto qualità, e è troppo male, che è venuto ora, e non in l'inizio, in l'inizio della settimana, credo, 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 più di 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 più. Se continuiamo a fare cosa stiamo facendo, credo, possiamo migliorare e ottenere i punti, e ovviamente, tornare da dove siamo. Non vogliamo essere sotto, vogliamo andare in alto. È importante avere punti, ma la partecipazione che abbiamo ora è buona, e noi stiamo davvero sviluppando come squadra, e ti senti anche questo nella squadra ogni giorno. Davide Nicola, il vostro mister, parla della formazione di un gruppo, cioè che per vincere contano tutti allo stesso modo, sia quelli che sono in campo, sia quelli che magari giocano un po' meno. È un concetto in cui ti ritrovi? Sì, tu vieni e vieni con tutti, e non puoi fare solo con un gruppo, non puoi fare solo con un gruppo, devi fare solo con un gruppo, e tutti devono essere parte del progresso, e credo che il mister ha fatto molto bene, e come ho detto, stiamo sviluppando, siamo ancora non ci sono, possiamo migliorare più, ma come ho detto, è un progresso, e bisogna usare tutti, anche gli altri, che magari non giochano tanto come altri, ma anche in ogni training, cercherà che spazano spazano, che spazano, spazano, che spazano, che spazano spazano, e spazano, spazano, che spazano, che spazano, non solo 11 spazano, che spazano, 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 tutti e questo gruppo deve essere attraverso la stessa e credo che noi siamo ora e questo è quello che credo che stiamo sviluppando. Allora, raccontaci, facciamo un passo indietro, raccontaci del tuo ultimo anno all'Ajax con un grandissimo campionato e soprattutto una grandissima Champions League, che cosa, che ricordi hai del tuo ultimo anno all'Ajax? Of course, quando pensi a l'ultimo anno all'Ajax, ho avuto molti positivi, grandi sentimenti. Of course, we became Champions e won'Ajax con l'Ajax. We almost went to the final, and that's what hurts the most, because you think about all the positive things in the last year, but there's always that but and that still haunts you a little bit, because you were so close, but that's football. That's also the charm about football, but I think we can all look back at a great year and we are very proud of what we achieved last year. We had a great group, great set of guys and the staff around the team and we worked hard all year and I think we showed Europe what Ajax can do again and also the way we did it. We did it in our way, even when we played against the big teams. We played our kind of football, we never tried to figure out what they would do, but more that they had to figure out what we would do, so I'm very proud of that. Of course, there's always that but, but I think in a year time there's no but anymore, and just proud feelings. Allora, tu hai fatto tutta la tua carriera nell'Ajax e quando te ne sei andato hanno intitolato il premio del gol del mese a te. Questo è un onore mica da poco. Yeah, that's also something I'm quite proud of. When I left to Genoa they called me a couple of months later and asked if they could name the goal of the month after me. I'm still alive. Yeah, I'm still alive. Maybe they thought it was it? No, no. That's something you're proud of. I mean, it's a big club and there have been many great players. and yeah, they said because I won it so many times that they would do that. That's something unique and something I'm proud of. And of course I said, yeah, of course you don't even have to ask, just put my name on the thing. So no, that was, that's pretty, pretty special to me and something I'm very proud of. Allora, ci ricordiamo tutti il tuo arrivo a Genoa, il tuo arrivo all'aeroporto, con tutti i tifosi che ti aspettavano, ma come l'hai vissuta tu dal tuo punto di vista? Yeah, it was a very special moment. I didn't expect so many people to be there. And when we were in the airplane, they told me that it could be some people in the airport and I think, no, it's not possible. They will not come to the airport. And when we landed, they said, well, it's quite a lot. So when I saw them, of course, it was quite a lot. And no, it was really a unique moment, very special. and it was something I thought would never happen to me. But I'm very happy and grateful that the people took the time and to come to the airport. And yeah, that's something I would take with me and something I didn't thought would happen to me. So I'm very thankful for the people who took time to welcome me. All right, in different campi, però io faccio l'attore e tu fai il regista. Possiamo dire che c'è un punto di contatto tra i nostri due mestieri. Yeah, that's true. You are in front of the camera. I'd rather be behind the camera, directing everybody. But yeah, you could say that it's a little bit the same thing we do. Although I have to tell you what to do when I'm directing, so that will be a little different. But no, you're right. It's a little bit the same.